Salve, mi chiamo Giuseppe Badagliacca e sono ricercatore del Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Afferisco al settore scientifico disciplinario di economia e coltivazione erbace. Oggi, in occasione di questo ventisettesimo incontro del ciclo di videoconferenze promosso dal Dipartimento di Agraria, tratterò la tematica relativa alle nuove sfide dell'agricoltura, quali il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. Il riscaldamento globale e il cambiamento climatico sono due fenomeni che oggi girano sempre più all'attenzione dei media, nonché dei decisori politici, anche in virtù della sempre maggiore e crescente attenzione da parte della società civile, che, sempre più in maniera e in modo più forte, reclama azioni al fine di contrastare questi due fenomeni. Elocuzioni di riscaldamento globale e cambiamento climatico portano con sé una serie di fenomeni che racchiudono, appunto, quali l'incremento della temperatura a media globale, gli eventi estremi, la cui frequenza sta aumentando, gli eventi quali le andate di calore, ma anche i cosiddetti violenti umbi fragili o bombe d'acqua. Il periodo di siccità è i fiocchi incontrollati, che ne passano intere nazioni e regioni. Lo scioglimento degli acciai e del permafloss, a quel legato spesso una cospicua emissione di gas effetto serra. Vi è poi l'incremento del livello medio del mare, con sconvolgimenti che possono avere effetti negativi sulla vita animale, quella umana, e che possono portare a direvere effetti anche a carico di interi ecosistemi, determinando in alcuni casi la loro scomparsa, la loro estinzione. Inoltre, gli effetti del riscaldamento globale e del cambiamento climatico possono determinare un impatto notevole sulle comunità sociali, umane, costringendo intere popolazioni ad allontanarsi dai loro territori e determinando quindi migrazione. È stato stimato inoltre, come già oggi, l'effetto del cambiamento climatico e del riscaldamento globale sulle rese produttive delle agricolture, sia significativo, è che già nel 2010 si fosse attestato globalmente al meno 4% per quanto riguarda il mais e al meno 5% all'euro globale per quanto riguarda il frumento, con picchi relativi pari a meno 8 e addirittura a meno 14%. È stato stimato inoltre come il riscaldamento globale e il cambiamento climatico abbiano un effetto sul PIL già significativo, sul PIL mondiale, con stime che gli attribuiscono una riduzione variabile tra il 5% e il 15%, pari a circa 500 miliardi di dollari di valore. Tornando all'arrese, è stato stimato come alcuni territori a livello globale possono subire una riduzione della produttività dei propri coltivi fino al meno 50% e, più nello specifico, nel contesto europeo, il JRC, centro di ricerca finanziato dalla Commissione europea, ha stimato come, in particolar modo, le aree mediterranee possano subire, da qui al 2050 e poi al 2080, una riduzione della produttività delle loro coltivazioni che può arrivare anche al meno 30%. Il riscaldamento globale e il successivo cambiamento climatico derivano da un mutamento di quello che è un fenomeno naturale, che è l'effetto SER, fenomeno che in condizioni ordinarie permette di mantenere e di limitare le fluttuazioni della temperatura media globale nel tempo, tuttavia l'effetto SER, a causa dell'incremento della concentrazione di specifici gas ad effetto SER, quali la CO2, il protossido d'azoto e il metano, può aumentare significativamente appunto questo suo effetto, procurando un intrappolamento di un'aliquota superiore di calore che non riesce a uscire all'atmosfera verso lo spazio, determinando quindi un innalzamento della temperatura media globale. Gas ad effetto SER, come vi ho detto, sono diversi, i principali di essi sono l'anidia carbonica, il metano e il protossido d'azoto. La loro concentrazione all'epoca preindustriale, stimata circa all'anno 1880 ad oggi, è aumentata passando da 282 parti per milione a 410 parti per milione per contorno del CO2, da 283 parti per milione a 327 parti per milione per contorno del protossido d'azoto. Gas, che seppur presenta nell'atmosfera a concentrazione di un ordine di grandezza inferiore rispetto all'CO2, è molto ottenibile, poiché ha un potenziale effetto SER pari a 300 volte quello dell'CO2, inoltre è capace di reagire con l'ozono determinando della sua riduzione. Infine, il metano ha più che raddoppiato la sua concentrazione all'epoca preindustriale ad oggi, essi inoltre ha un potenziale effetto SER pari a 25 volte quello della CO2. Le Nazioni Unite, pertanto, ritendo opportuno un intervento su scala globale al fine di contrastare i cambiamenti climatici e appunto il riscaldamento globale, hanno indetto una serie di conferenze delle parti, nonché hanno dato mandato a uno specifico organo scientifico, l'IPCC, di sviluppare una serie di strategie al fine di contrastare appunto il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. Tra le diverse conferenze, tra le parti appunto promosse dall'ONU, a partire dalla prima, il protocollo di Kyoto, una delle più significative è stata quella che è avvenuta a Parigi nel 2015, la COP21. In quell'occasione, la conferenza delle parti stabilì l'obiettivo per il 2050 di ridurre l'incremento della temperatura media globale ai due gradi, ponendo inoltre come obiettivo ideale e più ambizioso quello di limitare l'incremento della temperatura media globale a un grado e mezzo. Dalla COP21 vennerò stabilito e vennerò mandato all'IPCC di sviluppare una serie di percorsi di mitigazione compatibili con questo obiettivo. Le strategie utili a contrastare il cambiamento climatico e il riscaldamento globale afferiscono solitamente a due tipologie, quelle di mitigazione e quelle di trattamento. Le strategie di mitigazione hanno come obiettivo quello di ridurre per i singoli settori produttivi le emissioni e quindi la loro cosiddetta carbon footprint. Mentre per quanto deve essere agili all'adattamento esso hanno come obiettivo quello di sviluppare sistemi di gestione che possano consentire allo specifico settore, nel nostro caso a quello dell'agricoltura, di riuscire a opporsi e ad adattarsi appunto al cambiamento climatico, quindi alle mutazioni del clima che avverranno da qui ai prossimi appunto 20, 30, 40 anni. Il settore dell'agricoltura, con riferimento alla mitigazione, contribuisce alle emissioni globali di CO2 per circa il 21%, è stato stimato da parte della FAO che le emissioni di CO2 da parte del settore agricolo siano aumentate dal 1965 al 2015, raddoppiando, è stato stimato come le sue emissioni possano aumentare da qui al 2050 senza un dovuto percorso di mitigazione di un ulteriore 30%. Le emissioni di GHG in atmosfera derivano prevalentemente dagli elementi zootecnici intensivi, dai cambi di uso del suolo e della non inoculata gestione del suolo che può determinare una mineralizzazione spinta nello senso organico, un indiscriminato uso di agrochimici, in particolar modo dei fertilizzanti azotati che può promuovere le emissioni di prodossidio d'azoto, nonché dalla gestione di residui culturali che può essere fonte di CO2 ma anche di metano. L'agricoltura si caratterizza inoltre per essere uno dei principali emettitori di prodossidio d'azoto ma anche di ammoniaca. Le emissioni di ammoniaca in atmosfera derivano al processo di volatilizzazione. L'ammoniaca è un processo biochimico che avviene nel suolo quando fertilizzanti a base di ion ammonio o di urea sono distribuiti su suoli a pH alcalino. L'ammoniaca volatilizzata dal suolo può poi successivamente dare origine a pioggia acide o depositarsi occultamente negli ecosistemi naturali determinando l'ieutrofizzazione. Per quanto riguarda invece la denitrificazione e la nitrificazione, loro sono i principali processi microbici responsabili delle emissioni invece di prodossidio d'azoto. È stato stimato come fino all'80% dell'azoto distribuito possa essere perso sotto forma di ammoniaca a causa della volatilizzazione, mentre il 23% dei fertilizzanti distribuiti possa essere emesso sotto forma di prodossidio d'azoto in risposta ai fenomeni di denitrificazione e denitrificazione. Le emissioni di metano in agricoltura invece appunto, come vi ho detto, derivano prevalentemente dalle fermentazioni enteriche, dalla gestione e fondamentazioni enteriche e dalla gestione delle risali. A seguito della COP21, anzi in quell'occasione, venne lanciata una particolare iniziativa da parte del Ministro dell'Agricoltura francese, che allora ospitava appunto la conferenza tra le parti, detta appunto 4 per 1000. In quell'occasione venne definito un concetto per il quale l'impegno da parte dell'agricoltura poteva essere tale nel mitigare le emissioni di anide carbonica che, se opportunamente gestito, avrebbe consentito di compensare anche le emissioni, l'incremento delle emissioni globali di CO2 da parte di tutti gli altri settori. Quindi l'agricoltura, secondo appunto questa iniziativa, sviluppando tecniche e sistemi di gestione a livello globale capaci di incrementare del 4 per 1000 l'anno la concentrazione di sostanza organica, di carbonio organico presente nei suoli, avrebbero consentito appunto di annullare l'effetto, da qui ai prossimi anni, dell'incremento delle emissioni da parte degli altri settori. Questa iniziativa è stata lungamente dibattuta all'interno della comunità scientifica internazionale, è stata ritenuta un'iniziativa forse a certi aspetti un po' troppo ambiziosa. Tuttavia, tutta la comunità scientifica unitariamente ha stabilito che comunque l'agricoltura può avere un peso determinante nel compensare le emissioni da parte degli altri settori produttivi e realisticamente il suo ruolo può essere fondamentale e determinante nel riuscire a compensare una liquida variabile tra il 25 e il 35% delle emissioni globali di gas effetto serra. C'è possibile e sarà possibile attraverso le implementazioni delle migliori e più raccomandabili pratiche di gestione agricola a livello globale. Con riguardo all'immagazzinamento del carbonio nei suoli, il gruppo di ricerca a cui afferisco in collaborazione con il settore della chimica agraria nella persona del professore Gelsomino, abbiamo condotto una ricerca in merito appunto alla stima del quantità di carbonio immagazzinato nei suoli delle principali usi agricoli presenti in Calabria. Questo studio ha mirato appunto da un lato cercare di stabilire i livelli attuali di carbonio immagazzinato nel suolo a fine di preservarli per il futuro. Dall'altro ha cercato di capire come gli stocchi di carbonio stabile che di carbonio labbile nel suolo possano essere direttamente influenzati dai fattori e di gestione, nonché dalle caratteristiche pedoclimatiche dei diversi comprensioni agricoli. Ciò che è venuto fuori da questa ricerca è stato che le superfici investite da Oliveto in Calabria rappresentano i siti di carbonio, di immagazzinamento del carbonio del suolo più importanti presenti nella regione. seguiti successivamente dagli agrumeti, mentre attenzione necessitano la gestione del patrimonio di carbonio nei suoli arativi sia asciutti che irrigui. Questo tipo di studio ci ha consentito inoltre nel futuro di attenziare in particolar modo queste aree e questi usi del suolo al fine di poter implementare lì tecniche per incrementare i stocchi di carbonio, poiché queste aree necessitano da un lato una gestione più oculata, dall'altro sono le più promettenti per riuscire appunto a immagazzinare carbonio. Per quanto riguarda i fattori capaci di influire sugli stocchi di carbonio in Calabria, tra i fattori pedologici e quelli climatici, hanno detta prevalenza quelli climatici e pertanto è necessario che in futuro si attenzioni l'effetto dei mutamenti del clima sul patrimonio di carbonio che è conservato nei suoli calabresi. Come ho accennato prima, l'implementazione delle pratiche più idonee, più raccomandabili ai fini di incrementare la quantità di carbonio presente nei suoli rientra all'interno di un approccio integrato che prende il nome di Climate Smart Agriculture. Con questa sigla, CSA, si intende appunto un approccio integrato per la gestione del territorio, delle culture e degli allevamenti nonché delle foreste, capace attraverso l'implementazione oculata delle agrotecniche di riuscire a, da un lato, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, dall'altro, a aumentare la quantità di carbonio nei suoli e quindi aumentarne la loro fertilità chimica e biologica al fine di contrastare il cambiamento climatico dall'altro, dall'altro lato invece a renderlo più produttivo e quindi incrementare la sicurezza alimentare. Tra le pratiche agricole che rientrano all'interno della Climate Smart Agriculture fanno parte la riduzione delle lavorazioni, il miglioramento e l'incremento delle rotazioni culturali, il miglioramento della gestione nutritiva delle culture, l'utilizzo del biochar, degli ammendanti organici, l'implementazione delle rotazioni culturali e le culture da copertura, la Land Restoration, cioè il cambio di uso del suolo, delle degradate agricole al fine di evocarle più ad usi forestali o ecologici in modo tale da valorizzarne questo loro ruolo all'interno degli agroecosistemi, nonché infine l'agroforestazione che prevede la associazione tra specie, arbore e culture erbace al fine di migliorare l'efficienza produttiva degli agroecosistemi da un lato, dall'altro aumentarne la complessità e quindi di aumentarne la cosiddetta resilienza. Di seguito vi parlerò brevemente di alcune esperienze che il gruppo di ricerca Quafferisco ha portato a condotto nel corso degli ultimi anni al fine appunto di studiare l'effetto sul suolo dell'implementazione delle pratiche agricole appunto rientranti all'interno della Climate Smart Agriculture. Con riguardo ad esempio alla riduzione delle lavorazioni, a questa pratica afferiscono tecniche quali la non lavorazione e quindi la semina diretta, no deal e la minima lavorazione. Con riguardo all'applicazione della tecnica della non lavorazione, effetti positivi di questa tecnica sono stati osservati da parte nostra sia sui sistemi erbacei che su quegli arborei, dove l'applicazione del notillo ha determinato sia un incremento della quantità di carbonio stoccata, sia appunto in un solo coltivato a frumento che è in un oliveto, ma anche ha determinato un miglioramento della fertilità biologica in un agrumeto, attraverso appunto una riduzione del disturbo del suolo che ha consentito un miglioramento e un minore disturbo della comunità microbica del suolo che a sua volta significa una maggiore comunità microbica, quindi una maggiore reattività del suolo alle pratiche di gestione, come ad esempio la fertilizzazione, è un miglior turnover dei nutrienti e quindi globalmente una migliore fertilità biologica dello stesso. Infine sempre sull'oliveto di cui prima il monitoraggio delle emissioni di CO2 è lo stesso, è evidenziato che l'applicazione della non lavorazione possa consentire una significativa riduzione dell'emissione di CO2 per metro quadrato, pari circa a due terzi rispetto alla lavorazione convenzionale. Con riguardo invece all'implementazione, al miglioramento delle rotazioni culturali, diversi sono stati studi condotti con riguardo al multiple cropping e quindi a quelle pratiche agricole di gestione agronomica che prevedono le rotazioni culturali, la consociazione o l'implementazione e l'introduzione all'interno delle rotazioni culturali di culture di copertura. Qui sulla sinistra c'è un esempio di avvicendamento tra culture differenti, in questo caso il maes è frumento, un esempio di associazione orzo e pisello, e qui invece un'implementazione delle culture da copertura con diversi sistemi di gestione e la coltivazione del mais. Nel corso degli esperimenti condotti nei passati anni è stato osservato come l'introduzione di specie, in particolare di specie leguminose, possa avere degli effetti benefici sul suolo andando ad aumentare la quantità di carbonio stoccato all'interno dello stesso, migliorando nelle consociazioni, ad esempio, sia la quantità di carbonio presente, così come la comunità microbica dello stesso, quindi aumentando i livelli di carbonio microbico presenti, e con il risultato sia un aumento delle raisee delle culture consociate con leguminose, sia con riguardo appunto alla consociazione stessa, quindi all'anno in cui viene svolta la consociazione, che all'anno successivo, quindi alle culture avvicendate con la stessa, in questo caso una cultura di frumento che, se avvicendata a un intercropping e a previsto l'introduzione di un legume, ha prodotto di più e soprattutto ha prodotto un frumento di migliore qualità. Ulteriormente, con riguardo agli ammendanti organici, l'esperienza condotta, parte appunto del gruppo Acquafferisco, sempre in collaborazione con il settore della chimica agraria, ha messo in evidenza come l'utilizzo di gestato metanogenico, derivato dalla cogenerazione, quindi della produzione di biogas, residuo della produzione del biogas e energia elettrica, possa consentire, sia occupatamente gestito e distribuito ai suoli, un miglioramento della quantità di carbonio stoccato all'interno del suolo stesso, con un incremento pari della comunità ammicrobica dello stesso, quindi anche della fertilità biologica del suolo. Ulteriori approfondimenti, inoltre hanno riguardato, sempre con riguardo all'utilizzo del digestato metanogenico, le emissioni di CO2 e lo studio della denitrificazione potenziale dei suoli sottoposti appunto alla somministrazione di questo sottoprodotto industriale. dagli studi appunto condotti hanno evidenziato come la distribuzione di digestato e la sua distribuzione del tempo possa determinare sì un incremento delle emissioni di CO2, tuttavia essa è comunque legata a un miglioramento delle condizioni di fertilità del suolo non trascurabile, cosa invece che non avviene nei sistemi convenzionalmente lavorati. Con riguardo invece alla denitrificazione del potenziale è stato osservato come sia il notillage che l'applicazione del digestato possono determinare un incremento della capacità del suolo a denitrificare. Questo fenomeno di per sé, diciamo, dannoso, tuttavia è stato determinato in condizioni potenziali e quindi ulteriori approfondimenti sono necessari al fine di valutare gli effetti in campo di questa pratica. Tuttavia è bene precisare che sebbene gli effetti della lavorazione su questo particolare parametro sono stati più significativi e duraturi, mentre l'applicazione del digestato ha determinato solamente un aumento transiente di questo parametro. Il gruppo di ricerca di cui io faccio parte comunque continua la sua attività di ricerca in merito alla Climate Smart Agriculture, alle sue pratiche agricole, in particolar modo attualmente stiamo studiando l'effetto dell'intercropping sia nelle colture da copertura che in quelle da reddito non c'è i sistemi di gestione delle colture da copertura e sulle rieffetti sul suolo e sulle colture avvicendate, quali il frumento e il mais. Inoltre, ultimi approfondimenti stiamo svolgendo sulle emissioni di CO2 a seguito appunto della diversa gestione del suolo in condizioni controllate al fine di poter riuscire ad ottenere delle relazioni stringenti tra appunto la tecnica di gestione e le emissioni di gas a effetto serra. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a partecipare e seguire le future attività ed iniziative che il Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria porterà avanti in futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.